Una petizione rivolta al Governo per salvare le imprese e i lavoratori del turismo è l'iniziativa lanciata a livello nazionale da Federalberghi cui ha aderito l'omologa associazione provinciale di categoria attiva all'interno di Confcommercio Sondrio e presieduta dal Livignasco Roberto Galli che invita ad aderire per salvare imprese e lavoratori. Il settore della ricettività da mesi orfano di turisti rappresenta uno dei pilastri dell'economia valtellinese con migliaia di dipendenti che rischiano di restare a casa senza sussidi. L'obiettivo della petizione aperta sulla piattaforma change.org è quello di raccogliere firme a sostegno del settore per sensibilizzare il Governo alle richieste di un settore vitale per l'economia. Questi gli interventi principali richiesti da Federalberghi, riconoscimento di ristori efficaci che ristabiliscano equità per l'anno 2020 e accompagnino le imprese anche nei mesi a venire, interventi sulla liquidità proroga delle rate dei mutui e concessione di prestiti ventennali. Esonero per il 2021 dal pagamento delle imposte, in primis i mutari e canonerai. Sostegno alle imprese in affitto per il pagamento del canone di locazione. Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive. Riduzione della liquota IVA al 5% in analogia con quanto avvenuto in altri paesi europei. Sgravi contributivi per le imprese che richiamano in servizio il personale. Sostegno al reddito per i lavoratori che rimangono disoccupati o sospesi. Il comparto si fonda infatti su una larga base di stagionali. Una questione che rischia di passare in secondo piano e che invece cruciale è quella dei dipendenti che ruotano intorno alla ricettività turistica e che ci stanno particolarmente a cuore, sottolinea Galli. Anche in provincia di Sondrio questi lavoratori sono migliaia e hanno esaurito l'indennità di disoccupazione. Mentre siamo in attesa dell'apertura degli impianti, una buona parte di loro rischia di restare senza lavoro e di non poter maturare la Naspi. È infatti impensabile che tutti gli alberghi riescano a ripartire con il 100% di personale, a meno che non si intervenga con sgravi fiscali e contributivi che facilitino le riassunzioni. Dobbiamo fare presto, conclude Galli, prima che sia troppo tardi. Tutti gli interessati sono invitati ad aggiungere la propria firma alla petizione online su change.org salviamo le imprese e i lavoratori del turismo.